Consolini abbiamo una pessima notizia praticamente dall'ultimo video ad ora non si sa bene perché ci è esploso il mondo C'è praticamente scatta totalmente a caso sta andando in questo momento a 9 fps ed è totalmente ingiocabile Stavamo sistemando la nostra bellissima torre Ferinichi ci stava lavorando con tanta cura Guardate che bella starvestata uffa Però non si sa bene perché è esploso tutto Noi sapevamo che questo gioco non è tanto bene ottimizzato ed è ancora in accesso anticipato Però così è davvero troppo abbiamo un'idea per questo video quindi tranquilli Però siamo comunque tristissimi e volevamo farvi vedere che fine ha fatto il nostro bellissimo mondo Così ho capito qualcosa allora guardami è pronta E ragazzi come va io sono Ferinichi E io sono Stef e questo gioco è Scrap Mechanic Ed eccoci qua in un nuovo episodio di Scrap Mechanic Stef perché sei lì sotto giusto per chiedere Mi piace questo posto Fer e poi guarda così sembri alta Arrivo e ti schiaccio così impari a dirmi che sono bassa Ops scusa aspetta avevo dei blocchi e sto facendo un disastro Allora mentre parlo ok Volevo dire nuovo video ma anche nuovo mondo Perché si ci è toccato totalmente Lascial perdere quello mondo Perché appunto ormai scattava non c'era modo abbiamo provato a chiudere A cambiare settings A fare di tutto A togliere costruzioni Niente 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 Questo gioco non funziona molto bene Ormai l'abbiamo capito Infatti abbiamo deciso di provare a fare un video in un modo un po' diverso Abbiamo selezionato tantissime costruzioni fatte da altre persone Che ci sono sia edifici sia veicoli sia cose non identificabili Ok ottimo E le proveremo insieme Però abbiamo pensato anche a un format che vi potrebbe piacere Che nel caso facciamo come prossimo video Dove ci proponete delle cose da costruire nei commenti E io e Fer e Niki ci studiamo a farle Quindi cosa ne so Ci proponete magari di costruire una torre di consolini Entrambi la facciamo E voi votate qual è la più bella E il video dopo si dice chi è il vincitore Secondo me potrebbe essere carino In ogni caso Questi oggi proviamo costruzioni E ne ho selezionato davvero davvero tanto Dai non vedo l'ora Allora io non so cosa ha selezionato Steph Quindi è una sorpresa pure per me Non vedo l'ora La prima lo voglio evocare in questo fossato Mi è piaciuto Ma come dai Sì Aspetta Oh mio dio l'ho già visto Allora Allora Non provare a provarlo senza di me Sono rimasto fermo Perché ti lascio l'onore Che poi è similissimo a quello che ho usato su World of Tanks È davvero simile Me l'hai scelto apposta Le hai fatto apposta Sì 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 L'ho visto dall'immaginetta Sembrava molto simile Ed è super carino Aspetta dammi il mio momento Allora Non so bene da dove si guida Allora no io l'avevo vista Aspetta Però ci dovrebbe essere Non può essere che io non possa entrare Aspetta L'ho scoperto Guarda Guarda cosa succede Aspetta Oh mio dio Io qui Nel comandante Vai E io qua Ok Possiamo andare Sì dovresti poterlo guidare Funziona Aspetta Io al momento sto mettendo i cannoni Secondo te se premo sparano? No mi sa che non esiste nulla Su cui si può sparare su Scrap Mechanic Ere Non so bene perché ma non funziona Non diciamo nemmeno andare avanti Però guarda che non so fare i balletti con i cannoni Sono step E' bello No a livello di costruzione è bello Sì però non si può guidare Tu smettrai di cantare Va bene va bene va bene Questa era bellissima Ed era una citazione a World of Tanks Che speriamo vi sia piaciuto come video Adesso direi Che è ora di evocare qualcos'altro Non piacerà molto ai consolini Ok Però piace tantissimo a te E quindi ho deciso di dedicartelo Cos'è? Clop drop Non chiedermi come hanno fatto a farlo Sono dei geni Però è bellissimo Allora per chi non lo sapesse È claptrap il robottino di Borderlands Borderlands 2 in particolare E io lo amo Mi piace troppo Guarda cammini Posso guidare? Oh mio Dio ti muovi come lui È bellissimo Claptrap È bello Non cadere È abbastanza difficile da guidare Vai piano Vai piano Tranquilla Vai piano Ciao Fede Ciao Fede Abbracciami Sono troppo bravi Dai cossorini scommetto che vi piace lo stesso Anche se non sapete chi è Vi piace lo stesso Beh è troppo bellino Guarda come si muove È troppo bellino E Fede ti piace la mia nuova moto? Oh mio Dio Oh mio Dio Quanti tasti ha esattamente Fede Non lo so Sono già partita Abbasterò questi Ma dove vai? Addio Fede Ma in pieno di vederci Vieni qua Fede Dai non ci credo Stef Ho parcheggiato Cioè ma due secondi te l'ho lasciata Due Ho parcheggiato qui Ecco Aspetta Aspetta Scendi Fede È la cosa più ridicola Una spintina Eccomi Mettiti dritto Allora fermo un attimo Secondo me ha dei tasti da utilizzare Dici Ok vedi No questi no Però qualcosa Aspetta basta che leggo il volo No 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 È fatta così e basta È fatta così sicuro? Beh vabbè bellissima eh per carità No bellissima è fantastica Però pensavo fosse di quelle che si trasforma dal tipo di estetica capito Pensavo diventasse un Transformers No ma è bellissima così secondo me È giusto che rimanga in quel modo Parlando di Transformers Dovrei avere Una cosa È cattivo È capito che cos'è È il ragno di Minecraft No è una formica No è un ragno di Minecraft È una formica Oh mio Dio Oh mio Dio Che succede Dai ma non è possibile Perché sono tutti così bravi Perché Ma come fai a fare il McDonald Il McDonald qui Su Scrap Mechanic E noi non riusciamo a fare una casa Che abbia una forma decente Ma perché sei stupita C'è sempre stato Mangiamo qua da una vita Non è vero Ci veniamo tutti i fini di settimana Allora Buongiorno Buongiorno Io vorrei ordinare Oh mio Dio Ma ci sono anche Hanno messo i bulloni A forma di hamburger Oh mio Dio Salve Cosa vuole ordinare Salve Vorrei nove crocchette Due cheeseburger Un hamburger Dei gamberetti fritti Ok Una verdura Un gelatino McFlurry Poi Qualcos'altro Secondo me un po' di patatine Ok Porzione media Ok Una Coca Cola Visto che ci siamo Sennò come butto giù tutto Aspetti aspetti E un McChicken Io ce li ho queste cose Se aspetta un secondo Ma io aspetta Io adesso gliele do Con tutto quello che ho ordinato Un po' devo aspettare Questa è la busta Con tutte le sue È una scatola Con tutte le cose dentro Si fidi C'è tutto quello che ho ordinato È sicura? Sì Ma allora me la prendo Me la porto via Esatto Prenda tutto Grazie mille È stata molto gentile Anche molto veloce Fare Prima abbiamo citato Ok World of Tanks Con i carri armati Sì Che ne dici di citare anche GTA? Con cosa? Con questo fare Con un elicottero Un aereo Oh no Non l'avrei mai detto Già Già cara Ma si può guidare? Sì Davvero? Sì No no Non ci credo Si può guidare Allora io voglio andare Voglio andare qui dentro Allora Sì Sì Dovrebbe esserci il bottone Per aprire Mi vedi? Ok No non ti vedo Ok Aspetta te l'apro Allora vai a guidare Io mi siedo Ok sì Anche perché non ti vorrei mai far guidare Una cosa così pericolosa Esatto A me piace solo stare a guardare Allora Vai Vai Ce la puoi fare Stiamo volando? No per niente Premo uno E sono partite le eliche Stiamo andando dritti Premo due Stiamo andando Due Due Ok Tre Tre Stiamo fermi Uno Due Totalmente fermi Tre Forse ho capito Vola Sì Stiamo volando Stiamo volando Stiamo volando Verso all'infinite altre Ma te lo sei tolto fuori È fantastico Oh mio Dio Te l'ho detto Fere Che in questo gioco Non ha senso costruire Da quanto sono bravi gli altri No Potrebbe anche senso se poi non ti esplodesse il mondo E quello te lo dico Anche Quello è vero Però Visto che non possiamo costruire noi Almeno vediamo le costruzioni Bellissimo Che ben che adesso ovviamente stiamo andando a 10 fps Però poi lo facciamo scomparire E si sistema tutto E tutto torna normale Fere non so bene come atterrare Ma non importa Rimaniamo in cielo per sempre No Fere Ti fidi del tuo comandante Per niente Ci sono gli alberi e tutti ci incastri Sto guardando seduta che bellina Mi sembri un po' spaventata Fere Stai tranquilla Assolutamente So quello che faccio No non lo sai Gli alberi No problem ci passiamo in mezzo Non lo sai Come ho fatto prima con la moto Fere Appunto Atterrata Si è incastrata Si Si è incastrata Guarda Dezooma guardati Incastrata nell'albero E adesso Consolini Puntategli il dito contro E ditteli Steph se ne ha vergogna Perché cosa? Perché già Steph se ne ha vergogna Steph se ne ha vergogna Era finito Era fatta apposta Per frenare E per diminuire un po' La nostra discenza Che effettivamente Era troppo veloce Certo L'ho fatta apposta Come no Come no Non puoi dimostrare Che non l'ho fatta Oh mamma mia Aiuto Lo dimostro adesso Col fatto che stiamo Atterrando storti No guarda Raddrizzato Tutto perfetto Non so bene che cosa sia Quindi lo proviamo A rischio e pericolo Ma è di quelle giostre Che gira? Si intitola Breakdance Io pensavo fosse un posto Dove ballare Purtroppo c'è una giostra Però me la farò Che purtroppo Andar bene Dovrebbero girare Attorno a se stesse Poi girare anche tutta la nuova Allora dammi un attimo Dovrò trovare il modo Di attivare tutto Quindi aspetta che vado Nella cabina di comando Ma centro così? Vabbè Evidentemente Le luci Due Altre luci Tre Quattro Altre luci Ok Poi vediamo un attimino Qua ci sono generatori Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Oddio è partita È partita Aspettate che ci sono Te l'ho detto che era così Che girano su se stesse Ma poi gira anche tutto Oddio Bellissima questa Mi piace un sacco È troppo bella Allora però Io credo di poter Comandare qualcosa Con i pulsanti Quindi aspetta che prova a farti Impazzire letteralmente Tipo così Posso andare anche più veloce Così cosa è successo? Mi sa che sto rallentando Ma forse Cioè Leggermente 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 Così Lento Ok E giro e basta Non girano i sedili Ho notato È difficilissimo Oh mamma mia Adesso sei velocissima Eh sì Eh sì Cos'è? Uno skateboard gigante Ma come uno skateboard? Allora Aspetta voglio salire Teoricamente Ok Ho visto cose muoversi Si chiama tipo Trick bla bla Perché dovrei poter fare cose assurde Ok 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 In mano tua quindi non va bene Allora Ecco Girare su se stesso E cadere a testa in giù Come una pera Mi stai prendendo in giro Pensi che sia facile? Provala Aspetta aspetta Ci sono dei tasti qui sotto Che succede? Perché vedi? Che succede? Succedono cose quando li premo Puoi attivare cose per tipo mezzo volare o meno Salici sopra Salici sopra Come faccio? Saltire Ok Ok Fere perché ci Cos'è successo? Fere Lei Poi sono Ho premuto un tasto E schizzato E mi ha lasciato di Sono riuscita a fermarlo Mamma Perché è andato da solo? Meno male che ero io al problema Ti giuro ho premuto un tasto Il primo tasto è andato dritto E mi ha buttato di giù Allora Voglio analizzare Con uno posso decidere Verso che direzione andare E cambio proprio Vedi così Opla opla E' molto ganso Poi con due Con due Succede qualcosa che non è spiegabile Aspetta 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 Vai più piano Io ti premo i tasti sotto Oddio Non l'ha capito Sì ho capito qualcosa Allora guardami Pronta Ok Sì Ma come possono fare queste cose? Ciao Fere Non ti si può vedere Poi il minuscolo Diventerà la nuova cosa Al posto di l'istante Su GTA Farò i trick Con questo Lo skate Su scrap Bellissimo Perché se vi riuscite Se ci piace Mi like E' la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare La lista di iscrivervi Per non perdere i video In tre episodi Ciao E' la prossima Ciao